Bene, questo mi sa che gli piace moltissimo Aspetta, aspetta, ti posso dire di che cosa sa secondo me? Deve essere un buon profumo ragazzi Il bagno di quello lì, del centro commerciale Niente, quello non ci piace Aspetta Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi, triche, 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 triche Cosa si scartuccia? Cosa si scartuccia, Sofì? Cosa si scartuccia? Ma lo so Cosa si scartuccia? Cosa si scartuccia? Cosa si scartuccia? Poh! Io pensavo, siccome giochi preziosi manda sempre un sacco di giochi per te Di cose belle che ti piacciono Magari stavolta poteva mandare una cosa per me No? Allora, adesso te la apri E poi però per mamma Dipende da cos'è Va bene, adesso ti faccio vedere che cos'è Sei pronta a chiudere gli occhi? Allora, non ti ho promesso che è tua Ti ho detto dipende da cos'è Perciò non mi fregare No, dipende Potrebbe anche essere delle cose che a me non mi faccio mettere dove Però se sono un gatto di a me mi piacciono Dipende da cos'è Facciamo così ragazzi Se c'è un gattino e scrivete Hashtag regalo per mamma No, scrivete Hashtag regalo per mamma Hashtag regalo per Sofì Vabbè Vediamo cos'è Sofì, chiede i cacchi Dai Non sfriciare Non sfriciare Va bene E' una borsa per me Posso aprire? E' per mamma Sì, ho capito Ho capito Ho capito Vuole dare a me? No, no, no È per me Ho capito cos'è Posso aprire? Tanto lo so cos'è Sì È mia È mia È da mia È mia Ma cos'è Sofì? Se fosse vera Te la potrei anche dare In plastica Uffa Non è la Louis Vuitton È la Pui 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 Ton È cacca di elefante gigante No È della Pupsi Slime Surprise E adesso scopriremo insieme Sofì Slime Surprise Cosa c'è dentro? È una borsa super fashion Sofì Sì, sono tutti glitter per me Nesta la bocca Perché sono tutti loghi È logata È come la Louis Vuitton Mannaggia È la Pui 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 Puiton Vediamo Oh mamma Tanti punti interrogativi ci sono Allora Apriamo Intanto inizia Guarda ti do le forbici Sofì Togli quei cartellini lì Vogliamo vedere cosa c'è dentro? Sì Perché Sofì ha detto che è pesantissima ragazzi Sì è pesante È abbastanza pesante Beh in effetti Da vedere quanti punti di domanda c'erano Tra le cose che ci sono dentro Mi sa che ci sarà Da fare slime per tutto il giorno Ecco adesso Sofì ha le prese Con l'apertura È un rompicapo È un rompicapo Ah Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Siete pronti a vedere cosa c'è dentro? Sofì sta sbirciando No vabbè è un kit Sofì non sbirciare Facci vedere anche a noi furbetta 3 2 1 Wow Acipicchia Sofì ma quante cose ci sono detto Ti avevo detto che c'erano tante cose Ma non tante Tantissime Dai inizia a farci vedere un po' di cose Che ci sono lì dentro Allora togliamo via le protezioni Quelli devono stare lì Sono dei contenitori Sofì che poi quando abbiamo finito Ci possiamo mettere tutto lo slime dentro Vedi? Sì Ma questi sono già slime pronti? No Quelli sono le polverine Per fare le slime Non ti ricordi più come si faceva? Sì Serve la bottiglia Allora aspetta aspetta Faccio Mi faccio vedere tutto Allora Qui sono le polverine magiche Ok Bellissime Dacci qua che adesso le apriamo Così le vediamo Oh oh E lei chi è Sofì? Lei è la Pupsi più bella del mondo Eccola Faccelo vedere Sofì No aspetta Eccola La nostra porta Pupsi esclusiva Il super bicchierone E poi iniziamo con tutte le polverine del mondo Facciamo una rapida carrellata Sofì Però girascele così Ci sono Così le vediamo Ci sono queste qua che sono orsette Sono carinissime Le bocce di orsette Poi ci sono quelle lì normali I profumi segreti che dopo le usiamo E queste è attesta lì giù Ah qui c'era la palettina Eh certo E qui ci sono altre bottigline Allora Ma io direi Iniziamo a vedere tutto E partiamo Sì Però prima rimettiamo tutto dentro Allora Ci sono C'è Allora Ci sono Quattro profumi Il bicchierino La paletta Il biberon Vabbè Eh bicchiere grande Sì Quale per fare lo slime La pucca Uh le bustine Allora ci sono Unicore magic Unicore magic Unicore sparkle Queste saranno brillantini O decorazioni Poi ci sono quelli crunch Per fare lo slime crunchy E tutte le nostre bottigliette Guardate la quante Sono milioni Sono milioni E milioni E milioni E milioni Ma Adesso Sì Sofì Però avrei un'idea io Che idea Senti Siccome noi Dalla nostra Unicornina Pupsi Abbiamo un'altra bottiglia Come quello Potremmo fare Due slime Uno io E uno te E poi vedere Qual è quel più bello Va bene Ci stai? Ci sto Ci giochiamo la borsa Va bene Ho ripreso la possibilità Di prendere la borsa Vediamo Come vengono I nostri slime Sappi che io sono Una mastra Di colori Ah E tu non mi puoi Ricopiare Tanto per cominciare Va bene Ci sto Siamo pronti a cominciare Però Spero che non venga Un maroncino Che Sta vedremo Allora Guarda Ne abbiamo trovati Altri tre Quindi ne facciamo Ne fa due Sofì Eccoli là Che c'è due contenitori E due io E vediamo Chi vince Io ho già scelto I due colori Per i due slime Eccoli là Allora Sofia ha già scelto Le bottigliette Allora Io vorrei Quel fucsia Lì davanti a te Questo Sì Quel fucsia E poi Posso provare Un orsetto Va bene Basta che non lo usi tutto Eh no Lo devo usare tutto Allora facciamo così Dammi giallo Dammi giallo Dammi giallo Allora Io tenterò Ho usato tutto Sì Questi sì Per ogni boccettina Uno slime Allora Io tenterò la fortuna Con il fucsia Giallo E Sofì Tentrà la fortuna Con il verde Smeraldo E il viola Liberiamo Il tavolo Via Tieni Chiudilo Intanto Sentiamo Che gli altri Annusalo No Annusalo E' vero Buonissimo Io scelto questo Io vado Metticene Quanti coccini ce ne andrete Io ce ne metto 5 5 via Abbiamo deciso 5 1 2 Non sono sicura che ce ne ho messo 5 ma va bene Senti quest'altro che l'ho già scartato Bene Questo Mi sa che gli piace moltissimo Aspetta aspetta Ti posso dire di che cosa sarà Secondo me Ma deve essere un buon profumo ragazzi Il bagno De Che non lì De centro commerciale Niente Quello non ci piace Quello cos'è? Non lo so Però è abbastanza buono Anche questo non lo so Ma è abbastanza buono Proviamo un po' a scambiacceli Questo E' super delicato Non si sente niente Sofì Gli piace solo la vesca Mi sa Ci ha ripensato Senti un po' questo Un po' dopo finisco di arrivare la plastica Quello è l'altro che gli piace Sofì Abbiamo trovato un altro che gli piace Per fortuna Allora Mettiamo i coloranti Sì Aspettami che voglio venire a venire da vicino Sofì Vai G Ecco c'è finita anche la bottiglia Come voleva si dimostrare Sofì non fa mai guai Vediamo anche di che colore è venuto No? E' di questo colore Ah di quel colore lì è venuto Siete pronti? Vai Tienilo eh Un minuto eh Un minuto ok Sofì adesso puoi buttare l'altra polverina, quello lo lasciamo riposare 15 minuti adesso Sofì mette quello viola, andiamo a vederlo ma deve essere più bello o più profumato? profumato ci abbiamo messo lo stesso profumo, deve essere lo slime più bello perché poi dobbiamo a sorpresa prendere anche le decorazioni quindi quello che verrà più bello tra i due questo è viola però ha anche dei puntini azzurri fammi vedere Sofì guardate non so se si vede quello che ha buttato fuori sul tavolino Sofì, non lo so se si vede, adesso devo decidere se si vede mannaggia quando fa gli slime, fa dei pastrocchi Sofì che non ve lo immaginate un minuto presto, scottola un minuto è passato un minuto? si ok Sofì ha fatto, adesso Luca è miei? si senti, li vogliamo far vedere? si il giallo lo vorrei in quello rosa ok tutto? si tutto va messo sarà andato tutto dentro? no, come al solito è andato un po' anche fuori non fa niente oh ma quanto ce n'è lì dentro? dai, mentre io giro e sciacquero quello che mi metti l'altro? si pronti? Sofì metti quello e io sciacquero e adesso Sofì? quattro vediamo un po' come è venuto questo? che tutta la sabbia si è depositata al fondo e sta facendo le bolle ma come sabbia? sarà il pigmento? si vai girano che sennò viene un mappazzone cosa ne è? Sofì dai va bene, va bene, va bene sta cercando di sabotare il mio slime Sofì no ma io ve lo dico eh dai, quello sta tipo una rosa pappetta al fondo guardate scusate si, 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 Sofì sta cercando di sabotare il mio slime guardate la pappetta al fondo dai fammelo scotere vabbè niente basta lo tolto, prendo, no piano, 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 basta cos'è? eh, lo sapevo che lei cercava di sabotare il mio slime e invece io sono pronti adesso no di perdono sonare Pronto lo slime Sofì sei pronti a vedere com'è venuto? sì piano è c'è un cucchiaino la com'è? profumoso? qual è la calore pesca? vediamolo un po Sofì che bel colore! visto? però questo è sempre bellissimo è tipo trasparente a... adesso devi prendere una decisione difficile Sofì che decisione? ci vorrai mettere dell'unicorn magic che è una bustina che cambia colore ci vorrai mettere dell'unicorn sparkle che sono delle decorazioni ma sono sorprese non si sa che cosa c'è dentro o ci vorrai mettere degli unicorn crunch che sono le palline per fare lo slime crunchy? ti dirò lo voglio fare crunchy crunchy? e non ci vogliamo mettere cambio colore niente? solo le palline? crunchy a me mi piace così è andata bene stavolta e non vuole rischiare ragazzi allora quella borsa è mia tagliamone un angolo non ce ne mettere un quintale per favore si va bene ci sta bene sono bianche ma con l'azzurro ci sta bene adesso vanno messe tutte dentro e bisogna vedere che il guazzabuglio viene fuori prima bisogna fare un bel pallino ma vi insegno come non far uscire tutto allora bisogna fare prima di mescolarlo dovete fare un bel pallino e chiudere tutte le fuoriuscite che potrebbero causare disastro quando le palline ce le avete bene tutte dentro allargate vediamo un po' potete iniziare a lavorarlo e farle scappare tutte fuori no a lavorarlo e a giocarci perché come vedete nel mio slime non perde le palline guardate oh che bello mannaggia mannaggina ha fatto davvero un bello slime Sofì ai 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 vedete che è un po' competitiva Sofì eh mi sa che è indovinato va bene con il primo sei stata fortunata allora puoi metterlo lì ma che bello vediamo il secondo magari il secondo la foopsie del primo slime di Sofì uh anche questo è bello mannaggia ma come è che quello è bello sei sicura? vediamo un po' uh che bel viola uh è vicinissimo questo aspetta quello sei sicura che quello come lo facciamo? ci vuoi mettere degli unicorn magic? ci voglio mettere quelli le decorazioni? sì ecco qua a mele mele mu esci fuori prima tu a mele mele mu esci fuori prima tu a mele mele mu esci fuori prima tu scusa questo preso trovato vediamo un po' se stavolta sarà stata fortunata o no ma non lo tagli però certo il tagli un angolino c'è stata fortunata anche in questo giro porca miseria metti dentro metti dentro no vabbè sono bellissime oh sono i brillantini bianchi guardate che meraviglia la galassia più il mare bellissimo no vabbè modestamente ho già avvento io eh quello hai già sparato il giro Sofì ho già avvento io praticamente Sofì non fare disastrini però aiuto è rimasta intrappolata con gli slime ho già fatto disastrino e adesso ragazzi come faccio? mhm perché Sofì ha fatto due slime uno più bello dell'altro e poi anche la consistenza deve essere ottima perciò guardate eccolo qua lo slime di Sofì vedete che è venuto bellissimo mannaggia modestamente adesso però dobbiamo vedere sempre i tuoi eh e adesso Sofì purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito è stato un piacere stare con voi no 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 ciao a tutti no 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 bisogna vedere i tuoi la vuoi la borsa sì o no? io la volevo ecco vediamo i tuoi va bene guarda se il voto è uguale potrebbe anche la borsa essere parità e quindi la borsa è di tutte e due eh di tutte e due c'è anche questa possibilità eh se è parità vediamo darci provo passiamo ai miei va bene vediamo i tuoi allora partiamo da questo va bene vogliamo vedere il colore è venuto sì sarà stato quello rosa quello quello lì è giallo mi sa è giallo aspetta vi faccio vedere guardate è giallo nooo è bello non da toccare io ci metto la bustina io tento la fortuna con un unicorn magic ok lo sai che diventerà metallizzato vero? ci proviamo è giallo limone ferma lì eh che mettiamo giù questa la unicorn magic magic no vabbè la unicorn magic è bellissima ahahahah ahahah hai ufficialmente vinto la borsa è tua dai gira gira con il cucchiaino gira 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 come un cucchiaino gira 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 come un pancino com'è venuta la zuppa Sofì? oddio che bella è bellissima tiralo fuori dai tira fuori tira fuori metti tu sul tavolo su che vogliamo vedere? com'è venuto perchè ancora c'è da mischiare mi salvi eh si sono metallizzate le mani di Sofì vedete? guardate un po' che ti è successo Sofì? vabbè è bellissimo sì insomma il colore non è però diciamo che la finitura no vabbè è bellissimo dillo aspetta 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 ce ne voglio mettere ancora voglio proprio esagerare vediamo un po' come verrà adesso continuo a girare fuori devo scegliere uno di queste tre ci vorrei mettere questo che è successo? è una cosa bellissima aspettate aspettate andiamo a finire attenzione la borsa potrebbe essere stelle ecco la borsa è tua stelle attenzione ma basta fateci una messa Sofì sì hai fatto una pioggia di stelle sai che su di cosa stavo guardando? cosa? che si intona molto con la tua maglietta con lo slime che stai facendo adesso? spiritosa vediamole un po' queste stelle dai ma l'importante è farli belli che poi ci giochiamo attenzione vediamolo da vicino apriscelo un po' guarda che devono ruotare le ciungattine poi eh poi gli lasciamo un sondaggino allora ce ne rimane ancora uno eh ragazzi l'ultimo siamo pronti? che è l'altro tuo sì vediamo da quello quale deve venire bene lunghissimo non ci abbandonate però eh adesso sta l'altro di mamma ma cosa hai scelto? l'ultimo allora fai vedere com'è venuto intanto va bene dammi eccolo qua quello rosa era vero? sì quello rosa faccelo vedere intanto allora adesso ti do la bustina siete pronti ragazzi? vediamo cos'è? vediamo? bello ma questo è pigmento? sono le decorazioni? no veramente no cosa sono? quelli metallizzati? erano bustino di quella sorpresa vai ti piacerebbe un altro con le palline? un altro crunchy? sì è la prima volta che nelle poopsi troviamo i crunchy via eh ognuno sceglie non ti preoccupare allora guardate anche questo questo è un po' piccicoso eh guardate questo vediamoli un po' tutti e quattro allora l'azzurro di Sofì quello viola poi c'è quello giallo quella che si vede neanche tutta la semplina trasparente e quello rosa i tuoi sono sempre morbidissimi i miei sono duri eh dipende dalla consistenza Sofì e Sofì dove gli lasciamo il sondaggino? qua dovete votare se vi piacciono più gli slime di Sofì o gli slime di mamma ti è piaciuta questa borsa? sì è bellissima è una borsa fashion contiene tutti gli slime di desideri le profumazioni le bustine i crunchy le bottigliette le poopsi e poi è divertente eh eh e noi non finiremo mai di giocarci mai ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettetevi like iscrivetevi al canale attivate la campanella dindam dindam e ciao alla prossima ciao io continuo a fare slime per tutto il giorno ciao ahhh